buongiorno ragazzi primo giorno in kazakhistan e vi parlo qui con dietro di me questi tipi abbiamo appena fatto una sessione con lo sciamano e stamattina iniziamo da prima stamattina sono arrivata nel centro del kazakhistan è uno stato enorme dove ne parlerò meglio abbiamo guidato due ore verso il nord e ora praticamente siamo a metà fra steppa e foresta prima fermata di oggi è stato lo sciamano e questo tipi ci ha benedetto e mi ha benedetto con questo bracciale e niente ci ha raccontato un po della storia insomma degli sciamani nella cultura kazakh ora ci andiamo a vedere il lago e poi più tardi continuiamo per la seppa non è un po' Primo pasto di oggi, lagman, che sono praticamente spaghetti tirati a mano con il tè kazako e poi con il pane kazako con il formaggio. Come la nostra samba bella. Allora ragazzi siamo arrivati alla dimora estiva di uno dei khan che era uno dei dei capi di quest'area e questa è la montagna più alta dell'area che è 900 metri e ne faremo una parte dentro la foresta, lì c'è una foresta fittissima, bellissima. Lei ci ha detto che dentro questa foresta adentrandoci c'è un posto dove venire a meditare è una persona molto saggia e si sente proprio la sua energia, quindi ora andremo dentro, si dovrebbe anche sentire proprio il microclima diverso, andiamo a vedere se sentiamo questa energia e poi ce ne andiamo al lago. Ora siamo sediti sulla montagna in Amatikaccia e poi stasera andiamo a dormire nel URT. Pag. 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 Noi, noi, noi No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. capitale prima era un'altra città più al sud bellissima anche quella devo dire che mi ha stupito questo posto mi ha stupito il kazakhistan perché non è mai stato un posto che pensavo di visitare perché non era mai stato non era mai stato nel mio bucket list dei posti da visitare perché non lo conoscevo semplicemente sono tantissimi posti nel mondo che non conosciamo e che non consideriamo neanche perché non sono diciamo famosi non sono in tutte le foto di instagram non sono in tutti i video su youtube e quindi vi suggerisco perché mi sono piacevolmente stupita di questo posto delle persone di questo posto che sono carinissime apertissime vi suggerisco di continuare a stupirvi e continuare ad andare in posti che magari non sono tanto conosciuti perché troverete sicuramente qualcosa di bellissimo anche lì io qui ho fatto solo tre giorni quindi non ho visto tantissimo ma ho visto delle foto di altre parti del kazakhistan vabbè che grandissimo il kazakhistan che sono veramente spettacolari e quindi spero che vi sia piaciuto questo vlog spero che vi siano piaciuti questi tre giorni fatemi sapere se sono stata una brava moglie kazakh e niente se vi è piaciuto questo video iscrivetevi qui sotto al mio canale mi piace venite a seguire su instagram perché ogni giorno vi faccio vedere posti come questo e niente ci vediamo al prossimo video